Taglio Foto Sono Fatto Avete mai provato a imburrare qualcosa di duro? Come una patata Taglio La vostra Famiglia Pezzi La lama scorre come una patata Guardate Swifo Polvere Infilzo Vostra madre E metterlo dentro la bracciola di maiale Cazzo guarda Arance Pimoni Ho progettato scatoloni Modo facile quanto sicuro E vedete queste? Queste sono le mie Foto 30 Euro E questa ha un valore di 40 euro Certo La carne dalla pelle La pelle dalla carne Se non userete i miei coltelli Vi ricorderete di me Cazzo